Buongiorno a tutti, benvenuti a questa lezione in cui come evidente dal titolo ci occuperemo di un tema apparentemente leggero che è la descrizione dei fenomeni fisici che si verificano durante i più comuni sport che utilizzino una palla. Chiave di ogni gioco è la presenza di un regolamento, quindi prima di cominciare definiamo quali sono le regole del gioco che faremo insieme oggi. Innanzitutto il seminario è strutturato in modo da essere accessibile a tutti, quindi per quanto le conoscenze preliminari di matematica e di fisica possano essere utili, non saranno strettamente indispensabili per riuscire a seguire la logica del ragionamento che faremo. Detto questo però vi devo dire con onestà che i fenomeni che studieremo li studieremo applicando rigorosamente il metodo scientifico, quindi sarà una trattazione fisica del problema. Trattazione fisica vuol dire definire delle grandezze quantificabili legate al fenomeno che vogliamo studiare, quantificabili implica misurabili ed esprimibili tramite numeri, definiremo quali possono essere le grandezze che ne condizionano il comportamento, legheremo gli aspetti di interesse ai possibili parametri che lo modificano tramite delle opportune equazioni e la soluzione di queste equazioni ci fornirà la descrizione quantitativa del fenomeno che ci interessa. Come impostato questo modo di procedere? Sarà inevitabile la presenza di matematica e la presenza di equazioni, che sono implicite nel modo di lavorare la fisica, la matematica è il linguaggio che usa la fisica per esprimersi, detto questo però vi prometto che la matematica presente sarà soltanto quella strettamente indispensabile e eviteremo ogni volta che sarà possibile i calcoli intermedi. Ci saranno soltanto però delle minime eccezioni in cui lo sviluppo di un ragionamento più esteso e di calcoli mi sembra che possa essere utile. Nella lezione ci occuperemo dell'analisi di sport con la valla moderni, però prima di cominciare può essere utile fare un salto indietro nel tempo e vedere da quant'è che gli uomini utilizzano la valla come elemento di divertimento. Ci sono documentazione storica dell'esistenza di quelli che potrebbero essere i progenitori degli attuali sport con la valla fin dai tempi dell'antica Grecia e dell'antica Roma. Questo ad esempio è un mosaico romano che fa vedere due ragazze, probabilmente di famiglia ricca, si nota dalla accuratezza della capigliatura, che giocano a lanciarsi una valla verosimilmente d'estate. Se questa fosse una fotografia potrebbe essere presa da una delle spiagge che adesso stanno per ripopolarsi. In particolare vi faccio notare la modernità dell'abbigliamento, è sostanzialmente un costume a due pezzi, che in Europa è stato inventato nella seconda metà del Novecento, destando scandalo perché faceva vedere l'ombelico. Quindi questo dimostra come anche l'evoluzione delle civiltà non sia un processo lineare, a volte si vada avanti e indietro per poter fare degli avanzamenti. I romani giocavano anche a una specie di calcio, in particolare facevano uno sport il cui scopo era tenere in equilibrio la palla, si giocava con tre squadre due contro due. E in tempi più recenti, qua siamo nel XIII secolo, nasce la palla corda, il nome deriva dal fatto che la palla andava lanciata dall'altra parte del campo superando una corda. Dopodiché la corda è diventata una rete, la mano che si utilizzava all'inizio è diventata una racchetta e questo ha generato chiaramente il tennis moderno. La cosa buffa è che la palla corda all'inizio del Novecento è stato sport olimpico, quindi è rimasto, diciamo, nella sua versione antica fino a tempi molto recenti. Il primo passo per un'analisi fisica di un problema è cercare di capire il fenomeno di interesse in quante sfaccettature diverse si può presentare. Questo è utile da un lato per capire quanto variegate devono essere le predizioni che il nostro modello teorico deve essere in grado di fare, ma dall'altro ci possiamo aspettare che più il fenomeno di interesse si possa presentare in modi differenti, più possa essere complicato comprenderlo in maniera quantitativamente corretta. Abbiamo detto prima che tutti gli sport intrinsecamente si portano indietro a un regolamento, però ci rendiamo subito conto che il regolamento non è un buon punto di partenza per ragionare sulla comprensione della differenza di vari sport, perché sport diversi implicano necessariamente regolamenti differenti in almeno qualche punto. Due sport che hanno esattamente lo stesso regolamento sarebbero ovviamente lo stesso sport. Quindi dobbiamo cercare dei punti di contatto per partire nella nostra analisi e la cosa più semplice è che tutti gli sport con la palla hanno ovviamente la presenza di giocatori, come minimo due negli sport individuali, e tutti si svolgono in dei campi da gioco di dimensioni limitate. Quindi come primo aspetto cerchiamo di ragionare su quanto diversi sono i vari sport in termini di numero di giocatori coinvolti e di dimensione del campo da gioco. Adesso facciamo una carrellata dei vari sport a partire da quelli che si svolgono su campi piccoli con pochi giocatori e andiamo progressivamente a crescere. Probabilmente il primo della lista potrebbe essere il tennis tavolo, che si gioca tipicamente uno contro uno, al massimo doppio, su un campo di appena 4 metri quadri di superficie. Curiosamente il tennis tavolo ha ovviamente un fratello maggiore, che è il tennis. Il tennis gioca con regole abbastanza simili a quelle del tennis tavolo, anche se non identiche, però il campo da gioco è di oltre 200 metri quadri, quindi sono 50 volte più grande. Se teniamo in grosso modo fisse le dimensioni del campo, esistono degli sport che si svolgono su campi di superficie simili a quelli del tennis, ma con regole completamente diverse, ad esempio la palla a volo, che è uno sport di squadra, 6 contro 6. E rimanendo nell'ambito degli sport di squadra, possiamo arrivare a sport che coinvolgono più giocatori che non la palla a volo e si svolgono su campi più grandi, ad esempio il calcio. Qui vedete raffigurata la fantastica nazionale d'Italia 90, la superficie di un campo da calcio è dell'ordine di circa 7000 metri quadri. Se adesso proviamo a vedere quanto è stesa la variabilità del numero di giocatori e della superficie, partendo dalla superficie passiamo dai 4 metri quadri del tennis tavolo ai circa 7000 metri quadri del campo da calcio, quindi c'è una differenza di quasi 2000 volte. A fronte di questa differenza molto grande di superficie il numero di giocatori cambia di appena 10 volte. Vedete comunque che l'intervallo di variabilità combinato di questi fattori è piuttosto ampio. Dopo aver realizzato che anche in termini di numero di giocatori coinvolti e superficie del campo i vari sport possono presentare delle differenze molto grandi, anche se i due aspetti non sono necessariamente completamente diversi tra sport diversi, siamo giunti al punto di sviluppare il sommario di questa lezione, in cui ci occuperemo dell'unico elemento che hanno veramente in comune i vari sport, e cioè la presenza della palla che in un'altra fase di gioco è nel controllo di un giocatore e che poi viene messa in movimento per raggiungere obiettivi differenti. La lezione sarà sviluppata fondamentalmente in tre punti distinti. Il primo è la descrizione delle condizioni in cui la palla viene messa in movimento, in cui cercheremo di capire perché nei vari sport si utilizzano strategie diverse per questa fase iniziale. Il secondo punto, una volta che la palla è stata messa in moto, descriveremo quantitativamente come si muove tra l'istante di inizio del moto e l'istante di arrivo verso il bersaglio. Questo è un problema di dinamica che implica la determinazione delle forze agenti sulla palla, il legarle al modo in cui varia la velocità della palla e la soluzione dell'equazione del moto che lega forze all'accelerazione. Se siamo capaci di risolvere l'equazione del moto, otteniamo tutte le informazioni che vogliamo su un moto, ad esempio la legge oraria, che ci dà la dipendenza della posizione dal tempo, la traiettoria che la palla segue, quindi su quale curva si muove, la gittata, quanto lontana arriva dal punto di lancio, il tempo che impiega ad arrivarci e qualunque altra cosa vogliamo determinare. L'ultimo elemento, che forse è quello più furioso, la descrizione della correlazione che c'è tra le regole del gioco e la fisica del moto della palla, quindi cercheremo di capire perché i vari sport utilizzano regole differenti legando le differenze delle regole alle differenze fisiche del modo in cui la palla si muove in sport diversi.